Oggi venivano qui oggi, il santo nazionale che entra il giovane nella il sotto, il Fachè spazzo, il piebre il chão! Il santo nazionale si occorre il finito nel chão, il vente diventa, bere e colore la il cia e grita a sua cia. Il santo nazionale che, sul Ese joven di santo me è ponchiamo, sta a pedire il navio, eh? Ese santo nazional, che sta a entra il joven in cabezza, ma se vende oggi in cabezza, sta a pegare tutto, estragare, il joven non sta a distordare, il joven non vuole sapere ma di di traballare, non sta a vivere, se vende, se vende a nazional, Ese santo nazional, che sta a entra il joven in cabezza, ponchiamo, eh?